L'otta agli scarichi abusivi prosegue, l'allerta sul territorio e Pescara resta al centro dell'attenzione, questo secondo le dichiarazioni dell'amministrazione comunale della regione. Ma denunciare due scarichi a ridosso del fiume Pescara sulla Golena Nord è il gruppo Pescara Mi Piace che chiede di sapere se si tratti anche in questo caso di abusi o se sia un fatto noto al sindaco Alessandrini. Ci sono due tubi che escono qui sul fiume Pescara, non sappiamo se esce acqua nera, acqua bianca, abbiamo chiesto e siamo curiosi di sapere. Poi chiediamo al sindaco, visto che il governatore ha promesso di tappare tutti gli scarichi abusivi, di iniziare a chiudere questi due scarichi abusivi che rientrano nel sedimento del comune di Pescara. Nessuna risposta da dieci giorni e la Golena Nord continua ad essere invasa da liquami. Pescara Mi Piace si scrive tra coloro che cercano soluzioni e che non aspettano che arrivi il problema quest'estate per dire l'avevamo detto. Cerchiamo soluzioni a tutti i costi, cerchiamo di spronare un sindaco, anzi un'amministrazione ormai immobile, incapace di gestire questa emergenza. Per questo ci diamo da fare perché siamo prima di tutto cittadini pescaresi che vogliono godere del mare insieme ai turisti che speriamo arriveranno quest'estate.